Lei ha detto che la scuola mi ha fatto scoprire quanta differenza fanno i soldi nel modo in cui ti trattano gli altri. Io mi sentivo mortificato, volevo essere di una classe sociale diversa. Provavo un grande risentimento verso i miei genitori. Una volta chiesi a mia madre perché mi avesse messo al mondo sapendo di non potermi dare una vita felice. Lei non era felice perché non si sentiva ricco, socialmente accettato? Sì, assolutamente. Io come giovane adolescente impressionabile ero stanco di sentirmi dire questo non possiamo permettercelo, questo no, questo no. Allora io nella mia testa dicevo ma allora perché? Mi ha messo al mondo se non potevi darmi quello che voglio. Pensa che egoista, no? Comunque lei si dava da fare come poteva, vari lavoretti, Pony Express, a un certo punto pure l'impiegato e poi qualche furtarello. Cosa rubava? Ma sì, furtarello. Non è vero? Nel libro l'ho scritto ma si parla di taccheggio alla rinascente. Eh beh, sempre furto è. Sì, furto, ho rubato allora a parte tutto quello che non aveva l'antitaccheggio. Cioè agiva d'astuzia, quello che non l'avrebbe, diciamo... Sì, assolutamente. L'unico, diciamo, piccolo, l'unico reato è quello? Furtarelli, altri nella vita ne ha fatti? Vabbè, sono quello che ha cantato Maria Maria per tipo un ventennio. Certo. Ho scredito la legge sotto quel punto di vista. No, però parlo di reati, è un conto, diciamo, l'esa. Ma guardi che con la Codella Fini Giovanardi è stato un reato anche quello che faccio io. Maria Mariuana, veramente. Sì, diciamo che per Anno, così lo traduciamo, anche per i boomer in ascolto. E i boomer lo sanno, eh. Ho consumato cannabis. Lei viene da una famiglia tutto sommato normale, in condizioni economiche, difficili, ma non ha certo sofferto la fame. Esagera nel racconto un po' vittimistico, diciamo, della sua infanzia, della sua adolescenza, perché un po' rientra anche, diciamo, nella narrazione del rapper. Diciamo che ai tempi degli articoli scrivevo, vengo dal nulla, lo buttavo giù dura, perché non avevo elaborato quali erano stati i miei veri traumi adolescenziali, infantili, che in realtà avevano più a che vedere col bullismo, con la difficoltà di relazionarmi agli altri. E mi scusi, il bullismo in che senso? Che tipo di atti ha subito? Pestaggi, da quelli psicologici, questo è stato quello che in Italia è la cosa più infame, io l'ho subita, che è quella del porti sfiga. Quindi nel paesino di provincia dove stavo, gli sfigati, era come con le suore, tu ha chiuso, chi ti vedeva per primo passava la sfiga a qualcun altro, no? Che tà aveva? Eh, avevo avuto dai 6 ai 14 anni, 15 anni, finché non mi sono trasferito da lì. Comunque quelli erano gli anni in cui lei ha anche girato questo famoso spot per la Fiat Uno, dove recitava un jingle un po' rreffato. Scritto da altri, eh? Perché recitava così. È più che divertente, è un'auto intelligente. Beh, non è che era proprio underground. No, ma tanto l'ha scritta un altro e quello che mi hanno dato per fare quel jingle, a me sembravano tutti i soldi del mondo. Quindi se mi avessero fatto dire anche ave satana, l'avrei detto tranquillamente. Quindi non è che mi sono venduto dopo, ho iniziato proprio vendendomi. Ecco. E tuttora la penso così. Vabbè, quindi diciamo che lei fa il duro e puro quando guadagnano gli altri, ma quando guadagna lei... Il duro e puro, dove l'ho mai fatto il duro e puro? Eh. Quando? Dei soldi, prima diceva, no? Che soldi, il potere della ricchezza. Eh, forse... Quando ho detto il potere della ricchezza? Quando abbiamo parlato all'inizio di... Un momento di innamorci, scusate. No, no, non le permetto di prendere in giro i miei ospiti. No, quando abbiamo detto di Joker, no? Lei ha detto no, poi c'era Batman che c'era il potere della ricchezza. Beh, ma ci sono dei parametri, cioè uno può essere del ricco alla Bruce Wayne, c'è una differenza, e il cachet che ti danno per fare lo spot della Uno Rap, c'è una differenza. E poi fammici arrivare, quando sarò Bruce Wayne, magari non mi starà più sulle palle Bruce Wayne. Ci ricorderemo questi problemi. Per ora, diciamo che non mi sta simpatico. Nel 1996 ero una via di mezzo tra Cesare Cremonini e un tronista di Uomini e Donne, ma c'è stato un breve, intenso momento in cui sono stato uno degli uomini più trombabili d'Italia. Cosa attirava di lei? Ma forse la sindrome del bad boy. Io proiettavo così questa cosa di essere appunto... Maledetto, un po' dei quartieri. Maledetto con un po' coraccomandabile. Ma il fatto di essere un po' coraccomandabile era vero o era scena? Era scena. Era un po' scena. Era scena, in realtà... Tutti uguali. Sono un cucciolone che però ogni tanto morde e sbrana. Piace ancora alle donne, lei? Non lo so. Io sono da 25 anni con una relazione monogama, quindi non ne ho idea. Allora, mettiamolo così. Si sente sexy? Lei? Uno può piacere alle donne anche senza tradire, comunque. Beh, posso dire che credo di no in quel senso. Penso di piacere... Non in senso sessuale. Non in quel senso, credo di no. Io ho sempre detto, non vedo l'ora di arrivare al look da Harleyista della Florida, cioè pancia da birra, pelato sopra, capelli lunghi dietro, treccia alla Willie Nelson. A me piacerebbe... Carino. Beh, ci lavori. Senta, comunque, a un certo punto gli articolo 31 si sciolgono. E lei, diciamo, comincia a passare un periodo piuttosto complicato. Dice, quando non è più il nome con cui tutti ti conoscono non vali più un cazzo. I giornalisti pensano che sei finito, la TV ti dà per morto, la radio per fallito. Com'è quando si passa dall'essere considerato un fenomeno, diciamo, al telefono che squilla meno? Beh, poi, vabbè, cioè, è stata un gradino, un burrone in cui sono caduto. Lo negavi un po' te stesso e utilizzavi tutte le cose che ti servono per negarlo, cioè andare ai parti dove ancora ti fanno entrare perché sei qualcuno e negare, tentare di non guardare da... ma la cosa peggiore che ho fatto e che fanno in tanti è dire, la mia è roba così bella che il pubblico non la capisce, così scomoda che il sistema mi boicotta, colpa dei poteri forti, da 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 da. Comunque, diciamo, con la crisi professionale arriva in quel momento anche una crisi personale e quindi un abuso di alcol e di droga, di cocaina. Sì, perché l'alcol è la droga a ponte verso la cocaina, diciamolo chiaro, quello che penso io è quello che ho sperimentato sulla mia pelle. Finché fumavo e basta non mi è mai venuta voglia di prendere degli uppers. Lei infatti ha detto che il grilletto era l'alcol. Esatto, era la pallotta e la cocaina. E com'era la sua giornata, diciamo, da questo punto di vista? Perché è stata una dipendenza lunga, ma non assidua. Per fortuna, come vedete, ecco, sempre lì, l'hai messa giù più dura di quello che in realtà era. Allora, aspetta, siccome l'ho messa più giù, allora le leggo le sue parole. Per tre anni la mia vita è stata questa. Shot, altro shot, pippotto, birra, il grilletto era l'alcol. Poi arrivava la bamba e altro alcol. Sì, però avevo poi due giorni di recupero. Lei ad Aldo Cazzullo ha detto, drogarsi è come chiedere un po' di pace alla morte. Il prestito alla morte. Lei ha avuto... Non è una mia frase questa, l'ho solo riportata, ogni tanto noi artisti prendiamo, adesso non mi ricordo neanche di chi sia. Ma ha avuto pensieri in questa direzione? Una volta, una volta, ma penso che fosse solo parte del down, della sostanza che avevo assunto, ma in realtà è... la frase si spiega... Ma l'ha pensato o ci ha provato, scusi? No, l'ho pensato e poi non ho avuto il coraggio di provarci. Sono arrivato al punto di prendere il coltello, però non mi sono trafitto. Quanto ci ha messo a uscirne definitivamente? Allora, ci ho avuto un annetto di slowdown e poi ci sono ricaduto una notte e da lì ho detto basta, non so, qualcosa è cambiato dentro di me e non l'ho più fatto. Mi dice fino, diciamo, quanto riusciva a consumare in una sera quando esagerava? Ecco, lì, adesso faccio ridere perché è poco, poco, neanche un grammo. Un grammo da solo, no? No, in compagnia, quindi... E alcol quanto? Alcol fino a che non collassavo, quindi non ho idea. Comunque oggi niente cocaina, niente alcol, marijuana? Sì, ma posso bere qualcosa, non è che se bevo un secondo dopo vado a cercare il push. Marijuana? No, però io non ho smesso con la marijuana, è la marijuana che ha smesso con me, chiariamo. Allora, sicuriamo i suoi fanci. Perché sennò qua dicono, ah, com'è il pentito, no? No, in realtà è successo che... Non sarebbe manco niente di male, eh, se uno smette con la marijuana, smesso, non è che... Deve giustificarsi, voglio dire. Guarda, io, J-Axi, dovrei giustificarmi, però è una mezza battuta. Quindi appunto...